Siamo contenti, siamo contenti di andare a casa dopo questa partita, dopo questa serie di partite e dobbiamo sapere che poi non abbiamo fatto niente, ma ci fa andare a casa felice. Questa sera è una partita difficile, adesso non me l'abbiamo portata nel modo giusto e siamo riusciti a sbloccarla e ci siamo difesi con ordine, con spirito di sacrificio, con spirito di squadra, con l'aiuto di tutti e questa deve essere la nostra forza e fino adesso l'estate deve continuare ad esserla fino alla fine. Siamo arrivati come tutti un po' stati perché poi il campionato non si è mai fermato, quando siamo partiti siamo andati avanti e ti ho detto che dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo intrapreso la strada giusta, che stiamo facendo delle cose, non dico importanti perché sono frasi fatte, ma fare le cose nel modo corretto, ci stanno dando ragione ai risultati, però il campionato è troppo lungo per potersi accontentare o sedere, ci mancherebbe altro, il nostro mestiere è quello di cercare di spingere fino in fondo, ora le cose stanno andando bene, ci vuole comunque entrare equilibrio.